Voglio portarvi con me e il mio laptop a vedere quali sono effettivamente gli aggiornamenti che Apple ha rilasciato qualche ora fa all'ultimo evento E beh, le cose sono tante e quindi mettiamoci all'opera Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringiluca Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di dare un occhio a tutti quelli che sono i link qui sotto in descrizione Perché ci sono tante offerte interessanti, ma soprattutto iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like Detto questo direi di andare a vedere effettivamente questi nuovi prodotti Apple In particolare sono due categorie, uno riguardante l'audio e parliamo di HomePod Mini E un altro riguardante i nuovi iPhone, iPhone che quest'anno arrivano in quattro versioni iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max Ma andiamo a vederli Ma saltiamo avanti HomePod perché effettivamente, dato che non è ancora disponibile qui in Italia E io vorrei portarlo proprio qui sul canale, non appena disponibile Vorrei vedere effettivamente quello che è il concreto, quello che vedremo effettivamente in Italia Partiamo da iPhone 12 Novità più interessante su tutti gli iPhone e quindi non solo su alcuni Abbiamo il 5G 5G che è una tecnologia che sarà veramente molto molto interessante quando effettivamente sarà a tappeto su tutto il mondo E non vedo l'ora perché hanno dato delle caratteristiche, delle specifiche veramente molto interessanti con una velocità di connessione veramente pazzesca Come vi dicevo sarà disponibile in varie versioni Partiamo da iPhone 12 Mini che secondo me è quello più interessante, anzi probabilmente il dispositivo che venderanno di più quest'anno Perché è un dispositivo veramente molto compatto e linea molto con quello che è iPhone ad esempio SE che ho proprio qui davanti Perché con un dispositivo molto molto snello abbiamo un display da 5,4 pollici ovvero quello equivalente ad un iPhone X Praticamente un dispositivo del genere tutto schermo ed è veramente molto molto figo da vedere soprattutto sul punto di vista estetico A parte tante ma tante specifiche, più sottile, più snello, più veloce e tutto il resto andiamo a vedere quali sono le effettive novità concrete A parte il 5G abbiamo un'altra novità molto molto interessante che è per quanto riguarda le cover soprattutto e gli accessori che possiamo andare ad installare sul retro del dispositivo Dato che hanno inserito un chip, anzi una calamita se proprio vogliamo chiamarla così Che ci darà la possibilità di andare a collegare questo smartphone in maniera magnetica a quello che può essere una basetta di ricarica wireless Apple ne ha fatta vedere, anzi intravedere alcune che sono veramente molto molto belle sotto il punto di vista estetico Oppure degli accessori sempre di Apple che sono già disponibili alla vendita come ad esempio un portacarte Portacarte che si appiccica molto semplicemente sul retro ed è una feature veramente molto molto elegante e interessante Come vediamo dal design, beh siamo tornati alle origini, siamo tornati a quello che era il design di iPhone 5 iPhone 5 non 4S perché effettivamente è molto molto snello come dispositivo e i vetri o meglio il display e la parte posteriore sono perfettamente integrate in quella che è la cornice Quindi abbiamo un device molto molto più in linea a quelli che sono i nuovi iPad Pro che sono molto molto più belli per quanto mi riguarda sotto il punto di vista estetico Perché avere un design così squadrato ci dà la possibilità non solo di impugnarli meglio ma soprattutto di avere dei bordi molto molto più netti e soprattutto comodi Perché qualora volessimo appoggiarlo in verticale sopra una superficie possiamo farlo molto più comodamente Hanno migliorato questo dispositivo per quanto riguarda la resistenza, dicono fino a 4 volte più resistente rispetto ai vecchi iPhone Beh per quanto mi riguarda gli iPhone non sono mai stati poi così fragili e hanno aggiunto qui un vetro di ceramica sulla parte frontale per andare a proteggere ancora di più Beh come vi dicevo io non li ho mai trovati fragili ma avere una protezione in più non manca mai Non so qui a parlarvi delle colorazioni ve le starò facendo scorrere qui a schermo sono veramente bellissime Partiamo dal bianco, quello mio preferito che probabilmente vorrei acquistare quest'anno passando al nero, al blu, al verde e soprattutto al rosso Che probabilmente è una delle colorazioni che verrà più vendute perché è veramente molto molto bello sotto il punto di vista estetico Molte linee a quello che è Apple Watch Series 6 Ovviamente fotocamere migliorate come ogni anno abbiamo soprattutto un'integrazione software veramente molto interessante E soprattutto dovremmo avere adesso finalmente la stessa qualità sia sulla grand'angolo che sulla wide Quindi assolutamente perfetto perché fino ad ora la grand'angolo era veramente un po' troppo distorta e troppo differente rispetto alla wide Una cosa di cui però sono veramente interessato a capire effettivamente il suo funzionamento è quella specie di connettore che troviamo nella parte laterale destra Beh non hanno spiegato l'effettivo funzionamento, probabilmente potrebbe essere anche dovuto all'antenna del 5G Ma mi interessa veramente tanto capire effettivamente cosa significa e cosa serve soprattutto quella porta iPhone 12 mini e iPhone 12 sono praticamente identici sotto il punto di vista hardware e software L'unica cosa che cambia probabilmente è solo il display che passa da 5,4 pollici dell'iPhone 12 mini a 6.1 pollici La definizione di Pro in questo nuovo iPhone 12 per quanto mi riguarda è esattamente identica a quella che era la definizione di Pro nei vecchi iPhone Affermazione molto contorta ma che potrebbe farvi trarre già delle conclusioni da quelle che sono le mie effettive opinioni su questi nuovi iPhone iPhone 12 che dal punto di vista estetico beh non sto qui a parlarne sono veramente spettacolari Non li ho visti ancora dal vivo ma per quanto riguarda i render online sono veramente bellissimi e soprattutto affascinanti e soprattutto attraenti E soprattutto non so cos'altro dirli li vorrei proprio qui davanti a me Hanno introdotto il sensore LiDAR Sensore LiDAR che come ne abbiamo parlato già in precedenti video vi danno la possibilità di mappare tutto quello che è il nostro contorno Per delle evoluzioni grafiche in 3D e altre cose del genere Un sensore interessante soprattutto per i professionisti anzi direi proprio solo per i professionisti Perché gli darà la possibilità di interagire maggiormente con quello che è il cliente E soprattutto con quello che sarà il lavoro finito magari all'interno di una casa, un appartamento, una villa o qualsiasi altro sia lo scopo Anche qui ovviamente non poteva mancare il 5G e un display con una nitidezza e soprattutto una qualità grafica veramente pazzesca Che dovrebbe aver superato di gran lunga quelli che sono i vecchi iPhone Esattamente come iPhone 11 Pro abbiamo tre fotocamere anche qui con il miglioramento soprattutto sotto il punto di vista hardware Perché hanno un po' riportato in linea tutte quelle che sono le camere dell'iPhone Mettendole più o meno tutte alla stessa qualità Mi sarei aspettato tante cose da questo evento e chiudo il portatile perché beh le novità sono finite qui E vi parlo un po' di quelle che sono le mie effettive opinioni su questo nuovo evento Apple e soprattutto su questi nuovi iPhone Venite con me e vi spiego un po' meglio il perché di queste mie perplessità Beh questi iPhone si hanno apportato delle migliorie sotto il punto di vista estetico Ma per quanto riguarda il resto sono rimasti esattamente identici a quelli che erano i precedenti iPhone Quindi per quanto mi riguarda potevano effettivamente semplicemente cambiare il nome da iPhone 11 ad iPhone 11 5G E magari tenersi il design per i futuri iPhone per delle introduzioni effettivamente che potevano fare la differenza Ma questo incide veramente tanto sul mercato iPhone 12 darà ai consumatori una bella batosta perché effettivamente chi è appassionato ai dispositivi Apple vuole effettivamente sempre l'ultimo modello E avere un device che si chiama in un altro modo che si chiama iPhone 12 beh fa tanta tanta differenza Soprattutto con un design differente perché magari quella persona che ha acquistato l'anno scorso iPhone 11 Pro da 512 GB Magari la versione Max e tutto il resto Avere un device con un design cambiato in un clac e soprattutto con così poche differenze Beh lo strazia, lo mette al tappeto e qualora dovesse andare ad acquistare iPhone 12 Avrà la percezione di avere un device che effettivamente non è nuovo al 100% Perché si è introdotto delle innovazioni come ad esempio il 5G e basta E quindi ritengo che questi nuovi iPhone potevano tranquillamente risparmiarseli Bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Vi raccomando se così è stato like, iscrizione, commento e soprattutto attivare la campanellina Date un occhio a tutti i link che trovate qui sotto in descrizione Noi però ci vediamo alla prossima sempre qui su Pringi Luca Alla prossima